L'esito solo domani sera, probabilmente è a tarda ora, quando la conferenza delle regioni chiuderà la tre giorni dedicata al riparto del Fondo Sanitario Nazionale, una torta che per l'anno 2011 vale 106 milioni di euro e al cui tavolo sta sedendo in queste ore per la Puglia l'assessore regionale alla salute, Tommaso Fiore, che ha rimandato ai prossimi giorni la resa dei conti interna alla maggioranza vendola necessaria dopo l'ultima seduta di consiglio sul piano di rientro, terminata con l'annuncio delle dimissioni del titolare della salute. Ma la partita in questo momento è troppo delicata, si tratta di riuscire ad inserire nuovi criteri di riparto del Fondo, oggi basati essenzialmente sull'anzianità della popolazione a tutto vantaggio del Nord, come la deprivazione sociale, vale a dire il contesto sociosanitario nel quale si muovono i territori che per il Sud inciderebbe come sui conti sanitari e prepararsi così al federalismo fiscale dal momento che le performance del 2011 saranno quelle di riferimento nel 2013 per il passaggio della spesa storica ai costi standard. La questione trasversale investe lo stesso PDL che sfida in questione vendola a convincere le regioni del Nord resti a qualunque proposta di modifica, mentre al centro-sinistra si stringe attorno al suo assessore, PD in testa, che intanto scarica il suo collega e presidente della Commissione Sanità di No Marino dopo la dura relazione da questi pronunciati in aula sul piano di rientro e di riordino ospedaliero che portò Fiore ad annunciare le dimissioni. Ma Marino contraattacca e sfida il suo segretario a sfiduciarlo, accusando il PD di averlo lasciato solo, quale che sia la verità e soprattutto il futuro del territorio rispetto ai tagli, solo il confronto politico quanto mai urgente e necessario potrà dirlo, anche se il riordino ospedaliero è scritto da tempo ed è questo che Fiore non accetta dai suoi consiglieri. La critica, giusto o sbagliata che sia, ma fu di tempo massimo.